Pensare alla città nel XXI secolo, generazione urbana a Grosseto. Questo è un progetto biennale tra l'Università di Firenze, Facoltà di Architettura e l'amministrazione comunale che ha dato la possibilità a studenti del corso di architettura di potersi cimentare nella sperimentazione di nuove architetture, in particolare nel recupero di ambienti già preesistenti. Il Grosseto sarà il campo di applicazione delle nostre ricerche progettuali e dei lavori degli studenti per ben quattro laboratori progettuali, sia sulla città, sul recupero di parti di città, sia su nuove architetture che potrebbero sostituire architetture ormai considerate inefficienti dal punto di vista della funzione, dal punto di vista dei consumi energetici. Sono stati presentati gli elaborati degli studenti? Una cinquantina di ragazzi che vengono tra l'altro da tutta Italia, sono state individuate delle aree da ripualificare. Le risposte e le idee sono state tante, spero sia un'occasione sia per gli studenti che si sono trovati a lavorare con dei temi reali, anche già nei primi passi dell'Università, ma anche l'amministrazione che si trova delle idee e comunque un dibattito culturale sulla città. Il Comune di Grosseto dunque investe in nuove menti, nuove menti che possono progettare anche la Grosseto del futuro, la Grosseto di domani. Da questi studenti riceviamo tantissime idee su questi due temi nello specifico e che ci stimolano ovviamente anche a pensare e a ripensare Grosseto.